Alessandria chiama, Siracusa risponde e la forma di dialogo scelta è quella dei fumetti. Stiamo parlando della mostra Palazzo Monferrato di Alessandria su una passione comune fra un grande alessandrino come Umberto Eco ed un grande siracusano come Elio Vittorini. Il piacere della lettura dei fumetti li univa in una sorta di studio approfondito di quello che a tutta prima poteva apparire qualche cosa di leggero. La Confcommercio di Alessandria e quella di Siracusa da tempo alleate nel promuovere i rispettivi territori sono d'accordo. La cultura è il collante della loro idea di turismo. Direi che il marketing territoriale legato alla cultura è un canale che ci interessa molto ed è particolarmente promettente. Lo è per due territori come i nostri che vedono nelle bellezze artistiche, nel caso di Siracusa e nei quelli naturali, nei prodotti dell'enogastronomia e altri prodotti tipici per Alessandria, un'occasione di scambio. Ci abbiamo creduto, siamo convinti che investire in cultura porta un ritorno del territorio moltiplicato e quindi questo gemellaggio oltre a essere un gemellaggio di buone pratiche ha portato secondo noi ottimi frutti per il territorio. Elio Vittorini come l'anticipatore, il pioniere, Umberto Eco come colui che affondando appunto il suo sguardo di semiologo sulla validità dei fumetti li ha fatti assurgere veramente ad onore.